La politica dell'accoglienza è un tema non più differibile e stella polare dell'azione di governo non solo europea ma anche regionale. La Sicilia, infatti, per posizione geografica e storia, è da sempre la terra promessa per i tanti migranti che sognano di raggiungere una nuova vita. È in quest'humus che stamattina a Palermo si è tenuta la prima conferenza annuale sul fenomeno migratorio. L'evento, organizzato dall'Ufficio Speciale Immigrazione della Regione Siciliana, si è tenuto allo splendido hotel La Torre. È stato l'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano a sottolineare l'importanza di una politica a favore dell'accoglienza. L'accoglienza che deve essere appunto non emergenziale ma deve essere un'accoglienza integrata nel senso di poter aiutare questi profughi non solo a riceverlo nell'immediatezza ma poterli inserire nel tessuto sociale, nel tessuto lavorativo. L'assessore ha poi proseguito spiegando la strategia che il governo regionale ha intenzione di attuare. Essere sostenuti una volta che questi profughi arrivano sotto l'aspetto economico appunto non soltanto per l'emergenza ma per la permanenza di questi stranieri che possono essere anche una ricchezza per la nazione, ritengo. L'iniziativa è stata l'occasione per fare il punto sull'applicazione della legge 20 del 2021. Durante la mattinata inoltre sono state illustrate le linee strategiche e la nuova programmazione che saranno contenute nel piano regionale in fase di elaborazione da parte della struttura diretta da Michela Buongiorno. L'ascolto è servito all'ufficio per conquistare credibilità, per conoscere meglio il territorio, per ricevere dal territorio critiche, giuste, ma anche consigli e spunti. Questo ci ha consentito di acquisire credibilità ma ci ha consentito anche per la prima volta di poter redigere un piano triennale non deciso intorno a un tavolo da esperti ma che deriva ed emerge direttamente dai bisogni del territorio. Il documento prodotto dall'ufficio speciale immigrazione, ha concluso l'assessore Albano, è il frutto di un lavoro di ascolto e di analisi delle esigenze del territorio che ci ha permesso di individuare indicazioni preziose sul modello di governance per l'attuazione del futuro piano.